Fare i conti con l'ambiente, rifiuti, acqua, energia, Ravenna 2016. La manifestazione è ricca di conferenze, workshop, lab meeting ed eventi culturali e aggiunta la sua nona edizione. In questo contesto la Camera di Commercio di Ravenna ha ospitato il premio Ambiente Futuro 2016, tanti i progetti premiati per le sessioni Impresa e Scuola. Oggi la giornata è dedicata al premio Ambiente Futuro e soprattutto assume una importanza rilevante in quanto cerca di guardare sia sul mondo dell'impresa che sul mondo della scuola. Sul versante dell'impresa certamente gli interventi green sono fortemente aumentati. Basti pensare che il 47% delle aziende italiane, ed è un dato questo che si riflette anche nella provincia di Ravenna, sono aziende che hanno fatto una scelta portante sugli effetti delle attività green. Ma in particolar modo importante è anche l'attenzione che è stata posta sul mondo della scuola in quanto gli studenti hanno potuto attraverso alcune giornate di lavoro che loro hanno espresso nel corso di quest'anno, impegnarsi su quelle che sono sostanzialmente le tematiche del green, che toccano la vita dell'individuo, la vita delle nostre comunità locali ma toccano soprattutto la vita delle grandi comunità. Questa mattina non farò un intervento strettamente scientifico come ho fatto nelle precedenti edizioni ma mi soffermerò proprio sull'importanza del premio Ambiente Futuro. Questo premio che la Camera di Commercio ha fatto nascere ormai sei anni fa, siamo giunti alla quarta edizione e ha avuto un costante crescendo di partecipazione ma quest'anno possiamo dire che c'è stato proprio un boom delle partecipazioni sono quasi raddoppiate e è molto bello vedere che le scuole prestano sempre più attenzione ai problemi dell'ambiente e della sostenibilità.